Buonasera, buonasera e bentornati agli eretici. Nuova puntata, nuova intervista, interviste che facciamo e quei personaggi del mondo economico, finanziario, politico e culturale che non inquadriamo in uno schema prestabilito e sono lontani da quella che è un po' la solita propaganda e narrazione della nostra meravigliosa gran cassa mediatica. Prima di presentarvi il nostro ospite di oggi però vi chiedo come sempre di iscrivervi al nostro canale di YouTube di Fefa Academy se non l'avete ancora fatto e soprattutto attivare la campanellina per essere raggiunti a ogni nuovo contenuto che andiamo a pubblicare, contenuto video naturalmente e allo stesso scopo c'è anche il nostro canale di WhatsApp, trovate il link in descrizione e anche lì è importantissimo attivare la campanellina altrimenti non sarete raggiunti dai nuovi contenuti che andiamo a pubblicare. Inoltre ricordo che questa intervista insieme in versione video è diffusa tramite i nostri canali di YouTube e di Facebook e in versione podcast solo audio su tutte le piattaforme, quindi podcast che offrono questo servizio da Spotify in giù. Bene, date le info di servizio, arriviamo al nostro ospite, do il benvenuto al professor Beppe Scienza. Buonasera professore. Anzi, dovrei dire bentornato perché non è la prima volta che passa dalle nostre parti perché la volta precedente aveva presentato il suo libro tra l'altro stra interessante, vive i contanti e stasera ne presentiamo uno altrettanto interessante che si intitola I nostri soldi e l'inflazione, come difendere i risparmi da carovita, banche, consulenti, giornalisti anche, edito da Ponte Alle Grazie. Ovviamente il tema dell'inflazione è un tema che tutti purtroppo stiamo sentendo quando andiamo a fare la spesa soprattutto ma non solo e anche insomma purtroppo l'inflazione per chi non fosse molto avezzo con questi termini tecnici, che è sostanzialmente l'erosione del potere d'acquisto rispetto ai nostri risparmi, quelli che faticosamente riusciamo a mettere un pochino da parte. E stasera col professore insomma faremo un, entreremo un po' nei dettagli di questa cosa per capire un po' come difendere i nostri risparmi. Allora, visto l'aumento dell'inflazione e che abbiamo sperimentato soprattutto nell'ultimo periodo, negli ultimi due anni soprattutto, capire appunto come evitare di perdere potere d'acquisto è molto utile. E nella quarta di copertina del suo libro, professore, c'è scritto una guida utilissima e sgradita alle banche per difendere i propri risparmi. Intanto le chiedo perché questa è una guida sgradita alle banche. Ma perché in effetti le soluzioni per difendere i risparmi dell'inflazione ci sono, mentre non c'erano nel periodo di grande inflazione degli anni 70-80. E tanto meno a cavallo della seconda guerra mondiale o a cavallo della prima guerra mondiale, tanto meno. Adesso ci sono, e sono quelle più naturali, sono quelli, sono i titoli indicizzati all'inflazione. Sono l'uovo di Colombo. Il problema sono proprio le banche, nel senso che le banche e i venditori porta a porta, perché in effetti, e i giornalisti che li tengono bordone, perché in effetti, da un punto di vista obiettivo, ci sono dei titoli di Stato e anche dei buoni postali che sono agganciati al paniere del costo della vita, all'inflazione, alcuni più lungo, alcuni più brevi, alcuni italiani, alcuni anche esteri. Fondamentalmente la soluzione è dire, vabbè, se io voglio tutelarmi dall'inflazione, compro dei titoli che sono agganciati all'inflazione e che salgono con l'inflazione. E' una cosa ovvia. Volendo è una cosa ovvia, il problema è proprio che c'è un fuoco di sbarramento contro questa soluzione. Al momento dell'emissione del BTP Italia, le banche non osano contrastarli direttamente, perché, come dire, il Parlamento gli ha fatto così tante leggi a favore delle banche, che se una volta, ogni due volte all'anno emette un titolo, eh, lasciamo che lo faccia, insomma, non possiamo ogni anno stagli contro lo disfacciatamente. Non mettiamo gli bastoni tra le ruote. Eh, quel momento, al minimo di decente, no? A parte quel momento limitato nel tempo, perché sono una settimana, una volta, due settimane all'anno possono essere queste emissioni, tutte le altre volte, adesso, ma soprattutto ancora di più nel 2022, quando in effetti i prezzi in Italia al salino dell'11 sull'3%, e in Europa circa del 9,3%, quindi, come dire, c'è un 10%. Se uno voleva, prima, diciamo, informarsi, uno voleva informarsi, su questi titoli trovava tantissimi articoli sul Foro 24 Ore, su Repubblica, su quella di da sé, eh, che dicevano, no, non sono adatti, non è il momento, siano, no, non vanno bene, sono pericolosi. Ah, ma sono pericolosi. Sono dissi stato, volendo emessere dalla Germania, legati ai, 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 ai prezzi, ma sono pericolosi. Beh, tutto è pericoloso, non posso morire di infarto incadente, però, cosa c'è se sono pericolosi? E, primo, a colo, è l'informazione, perché, in effetti, prima di agire, uno, in qualche modo, si informa. E' già lì, e lì, già lì, innanzi, è proprio lì che viene ingannato, perché gli vengono, vengono diffamati, insomma, vengono calunniati le soluzioni, questi titoli, che sono quelli migliori. Poi dopo, quando arriva in banca, se uno agisce su internet è un po' meglio, perché non ha il confronto con l'interlocutore, consiglio sempre di operare online, perché non c'è quello lì che ti racconta le foto. Quando uno va in banca, o quando arriva a casa sua un venditore porta a porta, allora gli dico, no, sicuramente, non sono da prendere questi, no, no, abbiamo il fondo comune, che tutela, abbiamo il fondo pensione, etc. Questo è il problema, il problema in Italia è veramente l'informazione, prima di tutto l'informazione. Quella delle situazioni finanziarie è una frotta, non è che gli italiani hanno poche situazioni finanziarie, poche conoscenze finanziarie, gli italiani vengono brogliati dal giornalismo ormai totalmente asservito al sistema, alle stabilizioni finanziarie, insomma, al sistema del risparmio investito. Ormai le banche guadagnano di più nel gestire i soldi dei clienti, risultano dei loro bilanci, che nel fare la classica attività della banca che è prendere i soldi sui conti, sui interessi e prestare un interesse più alto. Sì, diciamo, professore, che rispetto... Sembra un questione a me. No, dicevo, diciamo che rispetto a quello che ha detto adesso, effettivamente, pensandoci bene, visto che, diciamo, non ho avuto, insomma, degli scambi, insomma, dei rapporti con il... con la banca, con la mia banca, con i consulenti finanziari, eccetera, eccetera, effettivamente spesso lo... Cioè, ho notato questa... un po', no, avversione che c'è rispetto ai titoli di Stato. Effettivamente, è un punto che... che ha fatto notare che non ci avevo posto abbastanza attenzione. Io, nel momento in cui mi ero rapportato con un consulente, insomma, dei consulenti finanziari che ho avuto a parlare in ultimi tempi. Il motivo è spiegabile. Già lì, già lì, consulenti finanziari, venditori, già lì l'imbroglio. Quelli che si chiamano consulenti finanziari, nella quasi totalità, sono venditori iscritti alla Camera di Commercio, con verso il versamento della Nazarca, sono venditori e pure i venditori, non sono consulenti. Hanno tenuto, un po' di anni fa, io seguo il suo settore dal metà degli anni 70, quindi siamo da 50 anni. Per decenni non sono riusciti ad accapararsi il nome di consulente. La precedente normativa li chiamava promotori. Hanno sempre cercato dispiaciati per consulenti perché se è un consulente, il consulente da consigli non è un venditore. E invece non è altro che consulente, un venditore e basta. e il motivo però è logico perché le banche siano contrarie all'investimento in titoli di Stato o buoni postali, peggio ancora, i dici di dati di inflazione e in generale a titoli di Stato e buoni postali. Perché sui titoli postali non guadagnano niente. e già e se uno sui titoli di Stato qualcosina guadagnano, certo, se io adesso compro in borsa un BTP Italia 2030 per esempio, quindi per sei anni mi copro il corso della vita e che rende un e mezzo per cento più dell'inflazione circa. L'oltre. La banca guadagna la commissione per il mio acquisto. se tanto allo sportello tanto quanto magari riesce a guadagnare 0,5% ma io lo tengo sei anni. In questo modo la banca mediamente guadagna lo 0,1% l'anno. Nulla. Se già mi rifiuto un fondo comune ci porta un mezzo per cento all'anno facilmente. Una buonissima vita 3,4,5%. C'è una bella differenza. però è logico che ostacoli no? Eh sì, 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 sì. È logico che ostacoli. Non parliamo se poi uno opera online che non paga lo 0,50% ma paga con una banca cioè con la piattaforma online magari banchi tel non so può pagare 0,10% o qualcosa che è 0,20%. Con piattaforme di trading online vere e proprie diretta c'è la trade eccetera così paga un fisso che è di 5,6,8 euro. vuol dire che se compra 10.000 euro paga 10 euro e 0% ma se ne compra 30.000 e 0,02% paga. Chiaro. E se ne tiene 5 anni magari, no? Diciamo che non paga niente fondamentalmente. La banca infatti su quelle piattaforme la piattaforma guadagna se uno fa trading compra 20 con la situazione perché se uno prende un titolo e tiene 5 anni ha pagato 8 euro e gli prendono un euro e fa ridere. Certo, certo. Uno, sei euro l'anno intermediario. Quindi professore le chiedo visto che li ha menzionati ci sono ci sono solo i BTP Italia e i BTPI che funzionano contro l'inflazione o ci sono altri strumenti? No, ci sono altri strumenti ci sono titoli simili emessi da altri paesi dell'Eurozona fondamentalmente dalla Germania e dalla Francia diciamo e dalla Spagna. Poi ci sono buoni fruttivi postali dal 7 di questo mese di marzo sono di nuovo in emissione i buoni fruttivi postali indicizzati di inflazione decennali e poi c'è un altro strumento di tutta altra natura che comunque è legato all'inflazione ed è il TFR il trattamento di fine rapporto è legato è indicizzato all'inflazione non è uno strumento finanziario però è un'opzione per un lavoratore tenersi il TFR che è indicizzato all'inflazione e difatti nel 2022 salì del 10% l'oro mentre fondi pensione è perso dal 9,8 all'11% nominale più la pericolazione acquisto quindi un disastro allora gli strumenti fondamentalmente sono i BTP Italia indicizzati di inflazione italiana i BTPI per cui ci mettono EI ci mettono anche il simbolo di euro che lo chiede ossia perché il simbolo di euro non è una lettera non ha un valore fonetico BTPI ma indicizzati all'inflazione dell'eurozona europea no europea dell'eurozona perché effetti non della Dalimato e poi ci sono i titoli appunto tedeschi BUNDEI INETI francesi o ATE obbligazione assimilabile di TORRESOR e INETI e quelli spagnoli poi c'è qualcos'altro comunque poi poi i dettagli chiaramente però dico chiaramente poi chi vuole capire bene questo genere di titoli eccetera c'è il libro a disposizione naturalmente che faccio lo ricordo come facciamo per tutti i libri che presentiamo durante le nostre interviste eccetera che il libro del professor scienza i nostri soldi e l'inflazione può essere richiesto che lo regaliamo sostanzialmente ai nostri iscritti e nuovi iscritti al videocorso di economia e finanza completo quindi chi volesse il libro del professor scienza al posto di quello di Stephanie Kelton che regaliamo di solito di base può scrivere nelle note in fase di registrazione di iscrizione che vuole il libro del professor scienza e gli invieremo a casa il libro appunto i nostri soldi e l'inflazione quindi insomma i dettagli rispetto a questo insomma le sigle eccetera li troviamo all'interno del libro di questi titoli di Stato però le voglio chiedere anche un'altra cosa professore perché rispetto ai titoli di Stato italiani negli ultimi nelle ultime settimane si è parlato molto sui giornali soprattutto del BTP valore di questo gran successo che ha avuto il BTP valore ma io avevo letto un suo articolo che diceva che ci sarebbero degli strumenti migliori del BTP valore ci spiega perché e quali sono eventualmente molto in maniera molto così insomma per fare un passaggio veloce ma è abbastanza semplice ma è abbastanza semplice il BTP valore sono dei nuovi prima avevano messo si chiamano BTP Futura avevano messo no? poi era ancora un attimo mi scusi mi scusi professore la fermo un attimo perché magari per chi non sa non ci segue tutti i giorni eccetera che non sa che cosa allora abbiamo parlato sostanzialmente di BTP Italia che sono quei BTP quei titoli di Stato italiani che vengono emessi dallo Stato italiano indicizzati all'inflazione il BTP valore invece ha un tasso diciamo fisso in qualche modo che però paga le cedole ogni tre mesi ogni tre mesi sì mi pare sostanzialmente ed ha un premio finale per chi li tiene per sei anni rispetto all'ultima l'emissione che c'è stata all'inizio di questo mese insomma di marzo al 2030 mi sembra chi li tiene fino al 2030 avrà anche un qualcosina in più rispetto una percentuale in più rispetto a quello che è il tasso prefissato ecco questo per fare una brevissima spia 0,7% mi pare sia il premio sì sì qualcosa di per sei anni per sei anni quindi per sei anni è circa lo 0,1% l'anno cioè veramente è una miseria è una miseria qualcosina proprio qualcosina ina 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 ecco no un premio piccolo piccolo ecco ma torniamo al BTP valore dopo questa breve introduzione allora i BTP valore come prima i BTP futura sono fondamentalmente titoli tradizionali buoni loro poliennali che hanno un tasso fisso con qualche differenza magari la vera città trimestrale antiche semestrali la il tasso che magari tra le scelte qualcosina in futuro avrebbero anche un piccolo premio legato al prodotto interno loro però fondamentalmente sono i titoli a tasso fisso e probabilmente i titoli a tasso fisso è che quel tasso è fissato prima l'emissione d'accordo e possono capitare due cose piacevoli una piacevoli i tassi crollano quindi uno ha un titolo che rende relativamente tanto però possono capitare due spiacevoli i tassi salgono e con l'inissione di BTP futura crollate a 70 o anche di meno o soprattutto i tassi non stanno dietro all'inflazione uno prende circa il 4% dei BTP valore un po' meno poi un po' di più circa e l'inflazione però può andare all'11% allora in un discorso di sicurezza quello che sto dicendo adesso direi che non può essere un attento di polemica nel senso che è un fatto obiettivo in un discorso di sicurezza sicurezza reale sicurezza dei poteri d'acquisto i BTP valore i BTP normali i BTP futuri eccetera non hanno la gancia all'inflazione può andare più o meno bene secondo come è l'inflazione i BTP Italia i BTP hanno la gancia all'inflazione si sa come andrà in potere d'acquisto con i BTP Italia o BTP un po' lunghe adesso si sa che uno tiene circa il 2% di un'inflazione non sa quanto tiene in termini nominali ma sa che avrà un 2% di un'inflazione quindi come dire rischia di meno perché l'inflazione può essere anche alta ma lui certo se l'inflazione è alta il fatto fiscale peggiora le cose se l'inflazione è bassa è meglio però fondamentalmente lui sa cosa avrà in potere d'acquisto un piccolissimo rendimento che tolte le imposte non è 2% l'anno è molto basso però ha quello uno prende un BTP vuole il tesoro poliannale a tasso fisso sa quello che ha come scrittura contabile come importo che avrà ogni 3 mesi ogni 6 mesi di credito però che quello sia meno dell'inflazione e magari anche così sia uguale all'inflazione o sia sia più dell'inflazione meno uguale non lo sa quindi in questo senso il il titolo indicizzato all'inflazione è più sicuro uno rischia di meno in potere d'acquisto così il TFR è più sicuro nel fondo pensione perché uno rischia di meno in potere d'acquisto poi il futuro è imprevedibile uno può anche uno rischia di più rischiando può anche dargli bene certo tutto va bene il TFR rende di meno che il fondo pensione tutto va bene l'inflazione di scena si può essere così l'inflazione di scena il BTP valore darà di più di un BTP Italia sì certo io tendo a fare discorsi di sicurezza insomma no vabbè chiaramente se il fine se il fine è quello chiaramente se il fine è quello di difendere i propri risparmi dall'inflazione è chiaro che diciamo uno strumento legato all'inflazione è più certamente va insomma soddisfa questo 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 scopo in qualche modo quindi di difendere i propri risparmi dall'inflazione ma quindi abbiamo detto quindi questo è sostanzialmente il motivo per cui è meglio il BTP Italia o il BTP I rispetto al BTP valore ma sono meglio i BTP Italia o i BTP I lì è molto dubbio come andrà perché allora da un punto di vista dell'indicizzazione per esempio negli utili degli spesi è stata più alta nell'eurozona che in Italia altre volte è stato il contrario quindi è molto dubbio dire quale inflazione sarà superiore perché lo ripetiamo magari sì lo ripetiamo per chi non ha ben colto i BTP Italia sono indicizzati all'inflazione italiana i BTP sono indicizzati all'inflazione dell'eurozona giusto ok ecco e il TFR a quell'italiana il TFR a quell'italiana ok e i buoni postali fruttiferi anche quelli a quell'italiana mentre l'alti buoni allora poi c'è un altro discorso a parte il rendimento diciamo il rendimento reale nominale c'è il fatto che il BTP Italia ogni sei mesi mi paga mi dà l'inflazione dei sei mesi precedenti con un piccolo ritardo mentre invece il BTP I e così gli equivalenti titoli francesi tedeschi spagnoli pagano una cittura bassissima qualcuno 0,10 bassissima quasi niente quindi 0,05 di sei mesi quasi niente e l'inflazione la riconoscono aumentando il valore nominale aumenta il valore che lo capitalizzano il titolo sale di valore però pagano pochissimo quindi da questo punto di vista è come dire ma può essere meglio potrebbe essere meglio un titolo effettivamente che capitalizza perché se no mi paga l'inflazione io la spendo e se l'inflazione è alta il valore del titolo che mi resta in titolo portafoglio scende perché quello diciamo è sempre 100 mettiamo mi paga l'inflazione ma quel 100 vale di meno quindi da questo punto di vista il problema è che questi titoli qua sono i titoli che sono veramente molto complessi se uno va a studiarli bene allora uno può anche non studiarli bene prendere alla buona e fare ancora una cosa salta perché se no a studiarli bene è difficile cioè lì bisogna spiegare ma resta difficile uno può anche non studiarli bene e fa una cosa prudente investendo in questi titoli per studiarli bene sono dei meccanisti che si chiama coefficienti di utilizzazione perché li hanno cercati di mettere in maniera tale da essere più perfetti possibile che anche chi lo compra durante la vita del titolo che è prima non ci rimette per cui hanno fatto hanno creato una cosa un po' complicata un po' complicata alquanto complicata molto complicata credo che pochissimi sappiano come veramente funziona da vedere quello che scrivono i giornali sono 24 ore compreso Corriere stasera economia compreso direi che per i giornalisti probabilmente nessuno sapeva come funziona veramente però uno ripeto uno può anche comprarli senza sapere come funziona uno può prendere anche cricillina un antibiotico anche senza sapere bene come funziona qualcosa si funzionerà magari sente un medico però comunque uno può anche fare delle cose senza sapere esattamente il meccanismo diciamo questo perché se interessa il meccanismo è un meccanismo è anche un meccanismo intelligente quello che hanno pensato per quelli di Uruguay insomma ecco i BTP e prima le OATI bello come sistema però un po' matematico chiaro ma ascolti abbiamo appunto restando sulla questione del BTP Italia eccetera c'è chi dice che se l'inflazione scende i BTP Italia non vanno molto bene perché chiaramente poi si incassa sostanzialmente la cedola è più bassa cosa risponde a questi che dicono che insomma che sollevano questo dubbio è verissimo è verissimo i BTP Italia come BTP garantiscono un rendimento in rapporto all'inflazione danno diciamo il 2% più dell'inflazione se l'inflazione va a 0 danno solo il 2% è comunque meglio al netto del no può essere meglio un titolo da suffiso è possibilissimo è possibilissimo che da adesso a 6 anni con BTP valore uno ottenga di più che con un BTP Italia che ugualmente scade nel 2003 per 6 anni questo è possibilissimo non lo so è un evento futuro che non so quale sarà può capitare qualcosa o può capitare l'altra certo il problema è che io rischio con BTP valore se mi va male se mi va male io posso ottenere anche il 5% dell'inflazione ogni anno se mi va male se abbiamo scenari come gli anni 70-80 con l'inflazione al 17% media per anni e anni di seguito con BTP valore è un disastro sì certo chiaro chiaro i tassi in quell'ipotesi se l'inflazione va a 0 un po' meglio però il mio problema è il discorso di rischio ovvero sia per chi cerca un investimento con poco rischio sono meglio quelli in generale in campo anche presidenziale in tutti i campi iniziati dell'inflazione poi lo puro politiciare può andare bene chiaro ascolti un'altra cosa le voglio chiedere anche un'altra cosa perché ne abbiamo parlato spesso nell'ultimo periodo anche durante le nostre dirette insomma durante la rassegna stampa che faccio al mattino quando si parla di BTP eccetera eccetera delle famose CAC che sono le clausole di azione collettiva ecco quegli investitori risparmiatori che appunto non vogliono appunto questi titoli di Stato come i BTP eccetera che hanno queste CAC queste clausole di azione collettiva tanto spieghiamo spiego brevemente che cosa sono ecco sono sostanzialmente delle clausole che permettono a chi ha emesso il titolo no mi scusi faccio faccio una brevissima introduzione faccio ah sì sì prego 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 ci erano delle voci anche ho visto l'articolo su Repubblica Affari Finanza di un quidì giorni fa del direttore generale dell'organismo dei correnti finanziari in cui CAC qui c'è un grande imbrogio su queste cose qua perché in effetti queste clausole che emesse nei titoli emesse in pari da un po' di anni dal 2013 dovrebbero essere dal 2013 per tutti i paesi dell'unione dell'eurozona quindi anche della Germania permettono di modificare le condizioni quindi la durata interessi di un prestito se questo approvato da una percentuale anti obbligazionisti queste clausole servono per regolari default queste clausole non aumentano di un millimetro il rischio che un paese faccia fallimento sono falliti i paesi che non le avevano come la Grecia o l'Argentina sono falliti i paesi che le avevano il fallimento del paese è un fatto chiaramente traumatico che accapita quando il governo non può pagare i prestiti preferisce alzare le pensioni salari che pagare i prestiti e il paese come ha fatto il Libano qualche anno fa ora le clausole azione collettiva non aumentano il rischio di fondi semplicemente faccio i fondi avvoltoi perché se dopo un crack perché se non c'è un crack nessuno si sogna di utilizzare queste clausole se non c'è un crack va avanti va avanti la sua vita paga gli interessi paga i ribossi bisogna che ci sia un insolvento un fallimento perché se no a quel punto c'è l'insolvento e il fallimento si convocano gli obbligazioni e si dice sentite io mi darei più o tanto il 40% accettate o no se gli obbligazioni si al 75% accettano è perché sanno che sono ancora peggio ma il fine di queste clausole che poi valgono erga omnis cioè anche quegli altri che hanno accettato avranno il sottostamento e impedire che arrivino i fondi avvoltoi che dopo la ristrutturazione comprono qualche obbligazione e vanno a sequestrare la nave argentina o cose simile quindi invece purtroppo però colpa anche dei giornalisti compiti o imbecilli questa storia qua viene usata per spaventare i risparmiatori facendo di credere che sia questa novità perché è una novità questa c'era già la regola di mettere queste clausole sia una un rischio maggiore cioè adesso che i titoli di Stato hanno questa clausola sono più rischiosi che prima che non ce l'avevano e quindi addirittura i titoli emessi prima sarebbero meno rischiosi di quelli emessi dopo assolutamente no il rischio riguarda il potere dello Stato che rega a pagare il suo debito se paga il suo debito si si chiaro chiaro le spiego le spiego professore le spiego professore perché ne abbiamo parlato e l'abbiamo presentata la questione delle CAC in un modo dicendo guardate che comunque se acquistate BTP sappiate che ci sono queste clausole che permettono diciamo all'emettitore del titolo di poter in certi casi molto particolari e molto remoti di tagliare di fatto il di rimborsare soltanto una parte e non tutto sostanzialmente il di proporre di proporre gli obbligazionisti di proporre eccetera eccetera chiaro chiaro sì 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 assolutamente e non lo devono accettare certo sì 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 però noi lo inquadravamo questa cosa quando ne abbiamo parlato quando ne abbiamo parlato in passato no lo dico per quelli che ci stanno che ci seguono da diverso tempo perché ne hanno già sentito parlare noi l'abbiamo inquadrata in questi termini perché chiaramente la nostra è sempre stata da questi microfoni da questi schermi una critica all'impostazione istituzionale dell'Eurozona soprattutto dalle architetture istituzionali dell'Eurozona che chiaramente non avendo una sorta di banca centrale normale come tutte le altre banche centrali dei paesi avanzati chiaramente c'è un rischio un po' maggiore rispetto alla banca centrale diciamo a una situazione che potrebbe verificarsi negli Stati Uniti o in Inghilterra o in Giappone per esempio ecco per fare per dire insomma questo insomma la nostra critica alle cacche era rivolta nel quadro quindi di un di un'architettura istituzionale che è un po' ibrida rispetto se vogliamo diciamo utilizzare un termine neutro ecco da questo punto di vista sì però c'è un fatto che mi vuole dire che o mangi questa finestra o saldi questa finestra perché eh sì sì no chiaro sì 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 infatti aggiungo una cosa mentre negli anni 70-80 c'erano titoli emizioni private indiciata all'inflazione corpete societari c'erano obbligazioni per esempio la Montedison Terna avevano obbligazioni c'erano le Montedison vita le Montedison vita erano obbligazioni emesse dalla Montedison della privata indicizzate al costo della vita ecco attualmente invece non c'è praticamente più nessuna emissione privata indiciata all'inflazione è un fatto storico per cui se uno vuole un titolo indiciata all'inflazione deve prendere almeno in Italia non so in Turgia in Turgia c'è ma in Turgia in Italia per l'inflazione italiana o dell'erozona certo a parte qualche caso rarice titoli non quotate fondamentalmente i soli titoli i soli investimenti indiciati all'inflazione sono titoli di Stato italiani tedeschi francesi spagnoli o buoni fruttori postali quindi non proprio di Stato però simili non esistono praticamente nel mio libro ho cercato per tutti i tuoi due non vuole per cercare troviamone qualcuna ma tagli grossi non quotati attualmente i soli titoli in Turgia dell'inflazione sono titoli di Stato chiaro negli anni 70 tanto non era così quindi uno deve prendere quelli se non rinuncia a prendere titoli di Turgia dell'inflazione chiarissimo ascolti siccome siamo diciamo agli sgocci se interessa per i buoni fruttori postali i buoni fruttori postali non hanno queste clausole non hanno queste clausole come non c'è un limite di 100.000 euro di garanzia perché però sono un po' diversi certo non sono titoli di Stato eccetera ok ho anche altre due due cosine che mi incuriosivano un po' da chiederle siamo agli sgoccioli della nostra intervista le volevo chiedere ma chi diciamo propone gli investimenti in oro per difendersi dall'inflazione ha senso chi dice questa cosa qui o meno sul breve medio termine non ha molto senso perché l'oro ha un andamento abbastanza erratico in potere d'acquisto vi faccio vedere un grafico che c'è che riporto sul mio libro che è l'andamento dell'oro in potere d'acquisto allora lo faccio vedere si condividiamo lo schermo così lo facciamo vedere lo mostriamo si vede un grafico si si eccolo qua allora prezzo reale cioè il potere d'acquisto invariato dell'oro al grammo da fine anni 70 a inizio 2023 adesso al mondo più in suba non cambia molto allora se l'oro mantenesse il potere d'acquisto avrebbe una riga orizzontale ok perché manterrebbe il potere d'acquisto questa cosa frastagliata non assomiglia una riga orizzontale proprio no per niente non è neanche che oscilli non è neanche qualche oscillazione non è qualche oscillazione sale sale fare tutto insomma forse un'ossillazione fare oscillazione eh vabbè no non oscilla sale non parliamo dell'argento quindi a questo punto magari si magari se uno pensa sui 50 anni sui 100 anni allora forse probabilmente di cose un po' diverse però nell'arco di pochi anni o pochi decenni l'oro ha un andamento erratico per cui spiace ma non può andar bene come può andar male diciamo sì sì chiaro chiaro e invece certo certo e invece per quanto riguarda le azioni sono un altro diciamo investimento proposto per battere l'inflazione funzionano o no a questo scopo certo no non funzionano perché questo si baserebbe su una teoria un po' semplicistica se salgono i prezzi le aziende vendono cose più care guadagnano e quindi si adeguano il potere dell'acquisto e per gli effetti per i prezzi ma viene la recessione come capitò pesantemente negli anni 70-80 i prezzi salgono e le azioni crollano io potrei far vedere qui una piccola una tabellina che ho preparato nel 70-80 queste sono le perdite con le azioni italiane in dieci anni tipo la 70-83 la 60-79 la 60-81 quindi la 20-81 cioè perdite del 60-70 con l'80% in potere acquisto pura insomma lì che total return cioè coi dividendi reinvestiti ecco i dividendi reinvestiti senza imposte l'America è un po' diverso però per i dieci anni 71-81 abbiamo sempre una perdita sul 19% e però nel frattempo non è anche molto peggio in certi momenti in certi momenti infelici per cui non è vero che le azioni sanno dall'inflazione dalla perdita di potere acquisto il discorso è un altro perché le inflazioni convengono convengono moltissimo ai venditori sui fondi azionari sui gestioni azionarie il gestore porta via anche il 3-4% l'anno e quindi per questo vengono sempre spinti all'investimento azionario ma è una banalità per difendersi dall'inflazione ci vogliono qualcosa che sia indicizzato all'inflazione non lo è né l'oro né le azioni né gli immobili cioè quando è vero può andare male le sue regole indicizzate all'inflazione sono quelle che per regolamento o per legge hanno questo aggancio e sono titoli di Stato o anche privati che adesso diciamo anche privati indicizzate all'inflazione o il TFR che per legge è indicizzata all'inflazione tutto il resto può andare vero può andare male chiaro chiaro chiarissimo professore grazie per la chiarezza che i numeri che ci ha riportato non lasciavano spazio a troppe interpretazioni e dubbi grazie mille professor Beppe Scienza per essere stato con noi ricordo sempre per chi diciamo poi si iscriverà al nuovo video corso di economia e finanza completo che il nuovo libro del professor Scienza i nostri soldi e l'inflazione lo regaleremo insomma chi ne farà richiesta in fase in fase di iscrizione bene la puntata degli eretici finisce qui noi ci vediamo naturalmente sabato prossimo buona serata a tutti buona serata professore lo abbiamo sempre detto se vogliamo un vero cambiamento soprattutto dai nostri politici è necessario che la consapevolezza sul funzionamento di un'economia monetaria moderna che è quella nella quale viviamo cresca sempre più tra i cittadini che sono coloro che eleggono quei politici per questo Fef Academy ha realizzato il videocorso di economia e finanza oggi ha un prezzo davvero accessibile a tutti una piccola spesa per una grande resa e poi ti regaliamo anche il nuovo libro di Stefani Kelton il mito del deficit cosa aspetti tutte le info su www.fef.academy